Grazie carissimi, è il 19 dicembre e ci avventuriamo in questa ultima parte del nostro avvento, in questa novena di Natale, e il Signore oggi ci mette davanti la figura di Zaccaria, il riflesso umano e peccatore della Vergine Maria, umana e senza peccato. La risposta di Maria e di Zaccaria di fronte all'annuncio dell'angelo apparentemente sono identiche. Dice come è possibile, però dentro questo come è possibile di Zaccaria si intuisce il vereno del peccato originale in Maria è un come è possibile stupito, stupore che nasce dall'innocenza di colei la quale è stata concepita senza peccato originale, ed è l'atteggiamento che può accogliere il Signore nella sua carne. Lo stupore innocente, lo stupore di un bambino, lo stupore di chi è senza la malizia, che non vede dietro alle cose doppi fini, che ha uno sguardo puro, uno sguardo innocente, uno sguardo che non è ferito dalla malizia. Lo sguardo di Zaccaria è uno sguardo come quello tuo e come quello mio, uno sguardo ferito da questa malizia, uno sguardo sporcato, uno sguardo che è frutto del peccato originale. Il demonio dice tu potrai diventare come Dio, Eva lo crede, ma nello stesso momento in cui Eva e Adamo credono a questa menzogna del demonio, senza soluzioni di continuità, nel medesimo momento si accorgono di essere nudi. Cioè, l'aver creduto alla menzogna di poter essere come Dio sporca il loro sguardo. Ciò che prima non provocava in loro nessun problema, la nudità, quindi la debolezza, quindi la loro identità, loro così come erano, chiamati ad essere una sola carne, nella propria debolezza, nei propri limiti, il peccato di orgoglio, di superbia, il peccato che li porta a tagliare, a disobbedire, cioè disobbedire vuol dire chiuse l'orecchio alla parola di Dio, per aprirla alla menzogna del demonio. Ha aperto gli occhi in una maniera diversa, in una nuova forma, cioè una forma sporcata, inquinata dall'orgoglio, dalla superbia. Per questo l'annuncio dell'angelo a Zaccaria svela, tira fuori ciò che c'è nel cuore di Zaccaria, questo orgoglio, questa superbia. Il rimanere muto è come l'accorgersi di essere nudi. La superbia con la quale ha creduto di essere come Dio, e con la quale tu e Dio costantemente crediamo di essere Dio, di fronte all'annuncio dell'immensità dell'amore di Dio, che Dio va a fare cose immense, impressionanti dentro di te, svela la verità. Svela che tu non sei Dio. C'è un oiato, c'è un gap enorme tra noi e Dio, che la superbia impedisce di accettare. Mentre Maria rimane stupita, dice, ma com'è possibile? Non conosco uomo. Che miracolo andrai a fare questa volta nella mia vita? Eccomi qua, sono la tua serva, fai me quello che hai detto. Perché io vivo della tua parola, dipendo della tua parola, vivo, come dice il Signore nel Deuteronomio, di ogni parola che esce dalla tua bocca. Perché non c'è in Maria il vereno del peccato originale, della superbia che rende l'uomo incredulo, che rende l'uomo duro di cuore, incapace di accogliere e credere all'annuncio dell'amore di Dio che è mio padre, il mio creatore, e provvede alla mia vita con il meglio, giorno dopo giorno, miracolo dopo miracolo, misericordia dopo misericordia. La patina della superbia, dell'orgoglio, tiene Dio fuori dalla nostra porta, ci impedisce di aprire all'onipotenza di Dio nella nostra vita. Maria, fatta di terra, sa che è una creatura, vive nel paradiso, vive laddove c'è una comunione perfetta tra la creatura e il creatore, allora le sembra del tutto naturale che Dio vada a operare in lei delle meraviglie che da lei non possono uscire, che per lei sono impossibili. Lei sta al suo posto di creatura, vive della parola di Dio, vive dei miracoli di Dio, ogni istante della sua vita per lei è un miracolo immenso, accada quel che accada. Non ha malizia nel suo sguardo, è aperta costantemente all'opera del padre in lei, vive dell'opera del padre, per questo potrà accogliere nel suo grembo l'opera più grande, Dio stesso che si fa carne, e accoglie e crede alla parola dell'angelo che le dice nulla è impossibile a Dio, ma certo io vivo costantemente nell'impossibile che Dio fa nella mia vita, ma l'uomo superbo invece si sforza di essere Dio, illudendosi di poter compiere con le sue forze l'impossibile. Tutta l'educazione che riceviamo, i film, le canzoni, supera te stesso, più in alto, più in alto, più forte, più verso Dio, più come Dio, supera Dio. La vita passata a battere i record, a entrare nel Guinness dei primati, questa è la nostra vita, in combattimento costantemente con gli altri che anche vogliono battere i record. Tutti si credono Dio e devono superare chi suppone di essere un Dio migliore. Non ci possono essere troppi dei, ne basta uno, e quello che è successo a Erode è nel cuore di tutti noi, per questo le guerre, per questo le separazioni, per questo le invidie, per questo le lotte, per questo i combattimenti costanti che ci sono nella nostra vita, a difendere le nostre posizioni, a non farci fregare, a guardare tutti gli altri con malizia e sospetto, credendo di vedere dietro le parole, dietro i gesti degli altri chissà quali complotti contro di noi, i trame contro di noi, questo complottismo costante che ci portiamo nel cuore e che ci fa guardare tutti gli altri storto, come Caino, con invidia, con gelosia, con paura, con timore, perché nel fondo guardiamo a Dio come un impostore, come uno che cerca di toglierci il posto di Dio, che cerchiamo con tutte le forze di conquistarci. Dio è un nemico da abbattere, non un padre che ci ama infinitamente e come creature, come bambini buttarci tra le sue braccia, no, il contrario, dobbiamo combatterlo e dobbiamo combattere gli altri dei che sono accanto a noi, che ci insidiano, siano essi marito, moglie, figli, compagni di lavoro, chiunque, insidia il nostro posto di primi, di Dio, è tutto uno sforzo, è tutta una proiezione, tutto un proiezione, tutto un progettare il futuro e quando arriva l'annuncio che ci dice ehi, ehi, non sei Dio perché non ami, non ami il nemico, non ami chi ti fa del male, Dio è uno solo, è quello che ti ama così come sei e ama ogni uomo infinitamente così com'è. L'ha creato lui, ha creato lui te ed è qui per compiere in te l'impossibile di fare di te una creazione nuova, di fare di te di nuovo un figlio obbediente, umile, semplice, che segue il cammino e la volontà di suo padre. Quando arriva l'annuncio di Dio che dice tu non sei Dio, vengo io a fare le cose che tu non puoi fare, quello scatena la reazione di paura e di incredulità, di chiusura, di indurimento, no, 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 perché nel fondo io vivo fuori dal paradiso, sono nello sforzo totale, sudore dalla fronte, concupiscenze, dominio l'uno sull'altro. In questo panorama è difficilissimo accogliere l'annuncio, è difficilissimo accogliere, accettare di non essere Dio e quindi accettare che Dio venga a fare l'impossibile che ancora in fondo pensiamo di poter fare. Zaccaria poi era un sacerdote, uff, allora con le sue abluzioni, con le sue preghiere, era il vertice della religione di Israele. Maria era l'ultima delle ultime delle ultime. Vedete la differenza che c'è in questo come è possibile? Come è possibile che Dio faccia una cosa del genere? Perché poi nel fondo il superbo ha un cortocircuito interno che tutti noi sperimentiamo ed è quello che ci impedisce di accettare la nostra debolezza, ci impedisce di accettare, di accogliere e anche di amare le nostre imperfezioni, ciò che ci rendono creature bisognose di Dio e quindi di fronte all'annuncio di Dio che viene ad amare questa creatura povera, debole, fragile che viene a colmarla con il suo amore, che viene a fare ciò che per te è impossibile, quindi tutto perché dice il Signore senza di me non potete fare nulla, beh questo suscita un dubbio che nasconde in realtà l'orgoglio e la superbia più grande. Per questo Zaccaria resta muto, non può fare nemmeno più il sacerdote, non può svolgere nemmeno più la sua funzione religiosa, è azzerato, è atterrato, è nudo perché l'annuncio dell'angelo scopri la realtà di Zaccaria e deve passare un tempo di purificazione nel quale accettare chi è, come accade a noi di fronte all'annuncio dell'angelo, della chiesa, della parola, la predicazione che viene sempre a denudarci, a zittirci, a metterci muti, a metterci nella realtà e ad aprire un tempo di purificazione, di mutismo, di umiliazione nel quale accorgerci e accettare la nostra incapacità per poter accogliere completamente l'avvento di Dio nella nostra vita, la sua opera, la sua ricreazione, la sua ricostruzione della nostra vita, il suo miracolo d'amore dentro di noi. Per arrivare di fronte alla grotta di Betlemme e riconoscere in essa la nostra realtà e riconoscere che Dio si è fatto bambino piccolissimo per distruggere il nostro orgoglio, la nostra superbia, la nostra mania di grandezza. Si è fatto povero per arricchirci, si è fatto debole per farci forti, si è fatto bambino per farci adulti nella fede. Allora coraggio! Si scopri la tua totale inadevolezza, il tuo essere una creatura, povero, debole, inerme, incapace, muto, che è la tua realtà. Un muto ha bisogno di tutto, ha bisogno di qualcuno che riempia questa sua incapacità di parlare, che gli dia la possibilità di esprimersi, che gli dia un'identità, gli dia una parola. Cristo che viene a farsi carne dentro di te. L'essere muto, il silenzio, il tacere è la purificazione, è ciò che ci fa simili a Maria, è ciò che noi possiamo apprendere da Maria. Cioè dalla Chiesa, dalla nostra comunità cristiana. Quel com'è possibile pieno di stupore virginale, di stupore innocente. Il nostro tacere è accettare la storia nella quale il Signore ci mette, accettare le umiliazioni che polverizzano il com'è possibile di Zaccaria, pieno di dubbi, per dire con Maria uno stupito Com'è possibile che ancora mi ami? Ma certo, a te nulla è impossibile. Sei mio Dio, sei mio padre. Io vivo dell'impossibile tuo amore. Eccomi, sono tuo servo, sono tua serva. Si compie a me secondo la tua parola. Si incarni in me il tuo amore perché giunga a tutti quelli che mi hai messo accanto.